Accanto a noi il presidente della Pro Pente d'Attilo, Giuseppe Toscano, buonasera. Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, benvenuti a Pente d'Attilo. La segna teatrale, insomma, canti e poesie della nostra area grecanica. Sono canti e conti della nostra terra, quello che siamo stati, quello che forse ancora oggi non siamo. E' un viaggio nella memoria, perché la memoria ci può aiutare a ritrovare noi stessi e a ritrovare il senso dei nostri paesi, dei nostri luoghi, il senso vero e profondo della nostra terra. Questo è anche il luogo, Pente d'Attilo, dove in questi giorni si stanno svolgendo i campi di lavoro. Ci sono ragazze e ragazzi che vengono da tutta Europa perché vogliono scoprire assieme a noi la nostra terra. Perché vogliono affermare dei valori, dei valori positivi che sono quelli della cittadinanza attiva, che sono quelli della democrazia, che sono quelli della libertà, che sono quelli della bellezza, della bellezza straordinaria della nostra terra, di cui noi calabresi, figli di questa terra, spesso ce ne siamo dimenticati. Abbiamo visto tanti giovani questa sera, Presidente, qui all'Anfiteatro, con questa bella serata, canti e conti come diceva lei, se non sto errando a dire l'esatto titolo. Comunque voglio dire, Pente d'Attilo, Pro Pente d'Attilo è attivo anche per quest'estate, con queste serate, la rassegna teatrale, ne vogliamo parlare un po'. L'Associazione Pro Pente d'Attilo è la capofila del progetto I Borghi Solidari dell'area grecanica, progetto finanziato da Fondazione Conil Sud, che da quattro anni è attivo in quest'area, anzi è l'unico progetto sociale che negli ultimi quattro anni si sta realizzando. Il resto sono soltanto chiacchiere. Quindi questa sera è una sera particolarmente bella, importante, perché Gianni Favasuli ci ha fatto emozionare. Lucia Catanzariti con la sua voce ci ha deliziati, Carmelo Mesano ci ha fatto ballare, ha fatto ballare i ragazzi e le ragazze dei campi di lavoro, le persone di Pente d'Attilo, gli emigrati che sono ritornati come ogni estate in questo paese, come in tutti i paesi della nostra Calabria e del Sud. E quindi è stata una bella serata, è una serata di teatro, come succede ormai da questa e la quarta giornata, continueremo con il 3 e con il 4. E permettetemi di ringraziare una persona assolutamente umile, straordinaria, di una normalità incredibile, ma che ha dato vita a queste serate, che è Angelo Fazio. Angelo Fazio, appunto, con la sua compagnia all'Accademia Drammatica Melitese, ha deliziato le serate qua a Pente d'Attilo. Continuerà, come diceva lei, prima il 3 e il 4? Il 4, sì. Mi pare che si finirà il 4 con il berretto a sonaglie di Pirandello. Altre serate, Presidente, per questa estate, siamo anche appena iniziato, vogliamo dire in questa maniera. Domani sera saremo al Paese Vecchio di Melito, ci sarà un sabato letterario straordinario, perché presenteremo l'ultimo libro scritto da Giuseppe Tripodi, Cola Ierofani. Saranno con noi Aldo Varano e anche Otello Profazio. Saremo nel gazebo della trattoria Turioleddu del Paese Vecchio di Melito. Quindi altro artista, Melito, domani sera, Otello Profazio, quindi canterà sicuramente. Sicuramente parlerà, poi il resto sarà tutta una sorpresa. Otello Profazio è sempre una sorpresa. È sempre una sorpresa, un grande artista che ritorna a Melito comunque. Sì, 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 ritorna a Melito, senza essere forse mai partito. Senza essere mai partito, esatto. Quindi, Presidente, noi vogliamo far sapere alla gente che vede queste belle serate, che si possono organizzare con niente, la gente stasera si è divertita. Sì, basta poco, non sono necessari grandi risorse, basta spendere bene quei pochi soldi che ci sono, questo sì. Permettetemi di dirlo anche con una punta di orgoglio che forse Borghi Solidari in questo è abbastanza brava nell'utilizzare le risorse che sono state destinate da Fondazione Conel Sud. Niente, per il momento è tutto, noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon lavoro per quest'estate. Ma permettetemi di ringraziare voi, voi state dando luce, colore, sapore, visibilità a tutta l'estate meritese e a tutto quello che avviene in quest'area. Grazie a voi perché siete i nostri occhi, la nostra mente e il nostro cuore. Grazie, Presidente. A voi.